Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di giro con i due Bene, andiamo pure avanti per la strada principale Vediamo se riusciamo a vedere più cose possibili Ormai siamo molto alti e sono contento di questo perché vuol dire che ho livellato bene Ok, vai, perfetto Andata Ottimi, ma anche perché abbiamo la difficoltà più alto quindi voglio andare sul sicuro Per fare meno figure di merda possibili Ok, non c'è nient'altro Ho ottenuto la bottiglia di latte normalo C'è anche la bottiglia di latte enorme, non so, diversa Ormai dovremmo esserci, eh Cosa ci dice la mappa? Che abbiamo esplorato bene A parte quel pezzo che non ho fatto perché erano troppo alti di livello E ci devo tornare Un idrociofolo Attenzione, non... Vediamo cosa ci dice Ci sente una voce provenire dalla statua dell'idrociofo Benvenuto, mio caro viaggiatore Mostrami la giusta offerta e la ricompensa sarà certa Una noce croccante e saporita dalla fragranza irresistibile Ce l'hai proprio detto, eh, infatti Oddio, 17 Ne vuole una? Beh, allora sì Vediamo cosa ci regala Hai dato una noce croccante in offerta all'idrociofo Grandioso, non credo ai miei occhi Questa sì che è un'offerta coi fiocchi È molto in rima questo tipo Strano, eh Un ciofo è balzato fuori dall'idrociofo Flur, l'araldo invernale si è unito a te Oh, ci andiamo a vedere Ho fatto un alzimento, la prima offerta si chiama Eh, squadra se non ricordo malo Sì, eh, li abbiamo fagiati tutti e tre Eh, questo cosa farà mai Assolutamente i ciofi aumentano quando si subirà Aumenteranno quando si subirà un attacco Lo loro stesso libero Oh, è interessante Anzi un po' la difesa finica È interessante anche questo Crea un campo di forza che aumenta la resistenza contro il vento Aumento un po' la difesa in modalità frenesia Beh, dai, tutte cose abbastanza buone E anche se è questo il più forte Però comunque sono selezionato tutti e tre Mi sono abbastanza sicuro E ti ritira Boh Cambia come primario Madonna che difesa che ha questo Penso che quello più bilanciato sia questo Non so che differenza c'è Forse il primario è quello che mi fa usare in battaglia E gli altri sono più assivi Non lo so, però in teoria Sono tutti e tre equipaggiati Dovrò capirlo Se ve lo spieghi Oh, un'altra di sta porta È della terza In teoria Se io facessi così E così Ehm No Sta porta è così Se io facessi così Me li fai vedere tutte quante Ok, ci siamo Le abbiamo scoperte tutte Vabbè, mi fa piacere aver esplorato bene Perfetto Questo fiore rosa Spero che ci Diranno spesso cosa fare Ok Dice che siamo arrivati Forse qui dovevo usarlo Vediamo un po' Stavo pensando Perché non vorrei fare la strada giusta E sbagliare la strada Ok, no Per fortuna Oh Una bella strada Vediamo cosa c'è qui Incenso Vabbè Sono tutte cose utili E al momento giusto Ci serviranno Solo il contenuto delle prese Però Chi si aspetta sempre In un schizio Di trovare qualcosa di Buono C'è di buono Utile da usare subito Ok, sto usando Sto prendendo tutto Questa è una strada alternativa A quanto pare Ah, ho capito Dove siamo Bello, bello Vi è piaciuto Ho fatto un bel giro Guardate Oh, cazzo Stavo cadendo Vediamo Beh, questo Mi interessa Per il comune Abbiamo fatto una cosa Buona alla fine Bisogna andare Tranquilamente Ritornare nella strada principale Ok Eh, c'è un po' di giro Da fare Però il buono È che l'abbiamo fatta Non so se Non ci dà la possibilità Di scendere No È un peccato Che non ci dia La possibilità Di scendere dove vogliamo Però dai Va bene Ok Andiamo pure E siamo a posto Siamo tutti in arena Oh, non posso muovermi Un momento Cos'è questo rumore? Oh Nani Eh, immaginavo Oh, cazzo Perfetto Non vedevo l'ora Siete davvero coraggiosi A entrare in questo modo Nel nostro territorio Non avete mai sentito parlare Di pirati dei cieli Di I cieli Zoran Chiedo scusa Purtroppo vengo da un paese Molto lontano Abbiamo una ragione Per cui dobbiamo Passare qui Ad ogni costo Affari vostri Chi ci assicura Che non siete venuti qui A spiare il nostro cuovo Dobbiamo ammazzarvi Eh? Già Secondo le leggi Della pirateria Le punizioni Per l'invasione Dello spazio aereo E la morte Sosteniamoli Sosteniamoli Ma io non sono Non stavo volando Stavo camminando Un attimo Come può essere L'invasione Eh, infatti Quello che dico io Silenzio Non mi interessano Le tue scuse Uccidiamoli Addio Non è un piacere Addio Che è sto terremoto Questa salta E il coro Chi la pilota E? Nani stavo E? Nani stavo Che è sto terremoto E? Che è sto terremoto 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 E' un'altra cosa, e' un'altra cosa, e' un'altra cosa, e' un'altra cosa. Beh sembra buona. Vedi la figlia. Va bene. Oh, un bel covo, insomma un bel villaggio. Ma, faremo un pochettino quel coso. Sono sicuro che funzionerà bene. Beh dai, è un bel accampamento. Non posso, ok. Ok. Ah, lo scopriremo adesso. Posso fare molto, solo camminare. Questo è come dei pirati di cieli? E' proprio grande. A primo passo falso, fate, che fate, stavolta vi spedisco subito all'altro mondo. Beh, io provengo da lì, quindi mi faresti cosa in piacere. Forse intendevo un altro mondo, però, vabbè. Sono molte zone. Ah, non lo so. Strana questa camminata così, calma. Ci sono anche donne e bambini addirittura. Ma non mi sembra un po' così cattivi. Voglio portarli dal capo. Sai se è qui? A quanto pare sì. O salve. Lei è molto accigliato, lo sa? I due terricoli sospetti che si sono avventurati nella valsa e pettina. Lasciaci spiegare i nostri motivi. Vogliamo solo andare al tumulo del Deacra? Deacra. Siete entrati nel nostro territorio. Questa violazione è punita con la morte tra i pirati di cieli. Buttatele giù nella valle che diventino pure cibo per gli uccelli. Ma come? Voi? Aspettate, avete di fronte a voi sua maestà Evan, re di Gatmandu. Vi renderò conto di cosa state facendo. Vi vedete conto di cosa state facendo? Oh, che battuta divertente. Ho sentito dire che il re di Gatmandu è morto e gli è succeduto il principe. E tu mi stai dicendo che quel re sarebbe qui? C'era stato un colpo di stato. Stavamo attraversando la valsa e pettina dopo essere scappati. In effetti ho sentito una storia simile dalla compagnia volante. Potrebbe anche essere vero. Se è così potrebbe convenirci farti morire qui, no? Gatmandu potrebbe diventare un paese migliore. Un paese più clemente verso noi pirati di cieli. Beh, non lo so, dipende, insomma. No. Capo, è terribile. Santi è stata rapita da quelle maledette viverne. Hanno detto, hanno detto, quindi parlano, che se ci è cara la vita dobbiamo abbandonare il nostro covo. Addirittura. Che cosa? Maledetti codardi, come hanno osato. Abbandonare il nostro covo significherebbe restare privi di difese. Sono sicuro che le viverne ci ucciderebbero tutti. Non ho scelta. Non posso scaficare tutti voi per una sola ragazza. Eh? Eh? È mia figlia. Me ne rendo conto. Oh, cazzo! Ma capo! Basta così. Non voglio più sentire parlare. Ne... Aspetta, aspettate. Perché vi arrendete così facilmente? Cosa? Se nessuno di voi vuole andare, lasciate andare noi. Salveremo io. Salverò io, Santi. Che vuoi fare? Chiediti di me, Zoran. Vabbè, un ragazzino piccolino. Santi ci ha salvato da morte certa. Adesso tocca a noi aiutarla. E cosa pensate di guadagnare facendolo? Vogliamo solo scappare. Vogliono solo scappare, capo. Non scapperemo. Non scapperemo mai e poi mai. Cosa ti passa per la testa? Si può sapere qual è il tuo obiettivo? Io ho deciso. Diventerò un re. Creerò un paese dove tutti sono felici. Siamo felici. Eh? Ah? E tu vorresti diventare un re? Tu che per non morire sei fuggito qui con la coda tra le gambe? Il nostro è un mondo massacrato dalle guerre. Uno come te anche una volta diventato re non potrebbe rendere felice nessuno. E allora? E allora io diventerò il re di questo mondo intero? Cosa hai detto? Il re di questo mondo intero? Io creerò un regno dove tutti sono felici. Costi quel che costi. Per questo... Per questo non posso ancora fermarmi. Ed ecco la risultata generale. A parte il capo. E i bambini. Verso me. La bambina si è seduta. Ok. E allora? Se non riuscirò a salvare Shanti non sarò dei miei bambini. E potrai uccidermi o fare quello di chi ti pare. Dottavia se riuscirò a salvare... Per questo non riuscirò a salvare il portico di Tamagami. E' quello che ti pare. Tantissà? Ok. E' che investita viene. Ok Affare fatto Bene Avete idea di dove Abbiano portato Shanti dopo averla catturata? C'è una caverna Ovest di qui Quello è il nido delle viverne L'hanno portata lì di sicuro In caso vi servano rifornimenti Qui nel covo abbiamo un negozio di armi E medicinali Righiamoci Roland La vita di Shanti è in pericolo Sì Perfetto adesso abbiamo Libero accesso a tutto Penso e credo La babbuna piange Eh sì adesso la porteremo a caso Non ti preoccupare Perfetto Hai tenuto un pezzo di tessuto comune Piacere Di qua si può andare Si può scendere Penso che sia quella la strada principale Non lo so eh Però vorrei prima esplorare un attico Vedere cosa c'è di bello E ci sono tanti posti E lì c'è l'istaport Oh grande Grande Perfetto Allora fammi capire esattamente dove vuoi che io vada Sono là E devo andare di là Quindi vuole che vada di qua Ok quindi l'altra strada Va benissimo Io vorrei vedere Lui dietro che c'è un Ristorante Un Si chiama Un mercante Ecco un ristorante E vorrei vedere chi è Il mercante E cosa ci offre Sto guardando l'infinito e oltre Qui probabilmente si va Perfetto Una Meno Graziolo Ok quello che è Tanta Tanta roba Oh Ok Niente di che Per carità Questa cosa inquietante E siamo a posto Abbiamo preso Penso tutto Quasi Qui non c'è più niente Giusto quella parte là Oh c'è qui Una signorina Compa pure tutto quello che ti serve Ah se mi fai vedere Era medicinale Noi abbiamo 20 Incensola Che va sciabbo Fa meno Ma tanto in meno Lancia Chissà chi è che la usa E il martello Verga La usiamo noi Ma non è così forte Questa 160 Arco Ci sono tante armi Che non ci fa vedere Chi le usa Quindi Presumo Sì uno dei nostri compagni Futuri Le scappe cosa fanno Ah perché ora mi dici Esattamente cosa fa Info Ok Ah ecco Così mi dici cosa fanno Però Ok Danni infatti con la spada più Eh Questa è la più interessante Questo è molto interessante E lo vorrei prendere Sì E sì Sì Perfetto Oh così adesso Oh vabbè Sono abbastanza contento Grazie È stato un piacere Vediamo più tardi Vediamo se c'è qualcos'altro C'è questa strada qua Che vorrei capire dove porta E quell'altra strada di sopra Che volevo vedere dove porta Effettivamente Allora qui c'è Niente Ok ho preso qualcosa Spero che queste cose che sto prendendo Mi servano E siano abbastanza Diciamo rare Allora La strada che avevo visto Prima Fatta che qui c'è una che sale Quindi vorrei vedere dove porta Mi interessa alquanto Esatto Qui c'è qualcosa Il pisellini I pisellini Adesso mi interessano E sì A cosa servono Ok Tanta Tanta roba A quanto pare Tanti posti da girare Adesso non ci parlo Tanto cosa vuoi Che mi dicheranno Mi diranno mai Ok Adesso è l'ultimo posto Che devo esplorare E quello Che era qua Da qualche parte Mi scendeva tanto Che è questo Ok E poi li ho esplorati tutti E li ho già fatti Basta Non c'è più niente Che io debba Guardare Perfetto Possiamo andare Abbiamo fatto tutto Abbiamo esplorato tutto E possiamo andare Alla Parte Interessata Che è di qua No È di là Sto cercando di guardare la mappa Ma Come al solito Mi sono perso Allora Dov'è che devo andare Di sopra Perfetto Fantastico Ok Vediamo di qua Va che è meglio Di sopra Se non mi perdo io Rivolta Non siamo contenti Ok Posto Vediamo Vediamo cosa Possiamo Combinare E siamo a posto Beh Siamo in super deforme Quindi non siamo più in dungeon Possiamo salvare Cosa molto gradita E anche ora Non dovremmo essere Rivellati Però Possiamo ancora capire Oh sì Qualcosina in più Ok Posto Andiamo Se mi giri la mappa Vedo anche E così Quello è il nido Dele viverne Quello laggiù Con la forma d'uovo Va bene Devo andare fino là Non c'è problema Bene Livello 9 Quindi siamo Siamo messi bene Dai Facciamo l'11 Ce la possiamo fare Tranquillamente Questi volano Non so se Ovviamente Ah li faccio prendere lo stesso Pulino tutti Però Ok 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 Oh Gli sali Gli insalizioni Eccoci qua Preso Ah ma i giuppoli Pratico combattono Per conto loro Senza In modo passivo Beh mi fa piacere Vai Ottimo Fatto Bene Abbiamo uno schignola Adesso lo prendiamo Cosa mi ha dato Oh una verga Allora Due strade Quale sarà Quella primaria Penso sia l'altra Quindi posso andare Tranquillamente qua A vedere cosa c'è E lo speriamo tutti Anche per la nostra vita Sicuramente Quanto mi seguirà quello Ok Non mi segue più di tanto Uh Interessante Se le troviamo È molto interessante Prendiamo le spalle Perfetto Ottimo E adesso Facciamo una bella Una bella Ok Oh Vediamo un po' Ovviamente Io sto locando uno E non mi prende l'altro Giusto Per fortuna Scendono Vai Via Sì Non sono molto Oh Interessante Gli ha fatto una magia Avete visto Di protezione Ok Adesso Lo facciamo Fuori Allora Chi gliel'ha fatta la magia Eh Sarebbe vero Saperlo Ok Libro Bello Quello scendolo Con la bacchetta Perfetto Adesso guardiamo Ecco la bacchetta Mi piaceva quanto Vediamo qua Cosa c'è Qua Ci sono proprio Rifatti in due secondi Allora La bacchetta Di lui Lui Grazie Sì Esatto L'hanno causato Dall'acqua Più Possibilità di critico Ma io direi che È andato anche bene Perché fa 37 Rispetto a 21 E 31 Rispetto a 21 Va bene Mi fa piacere Mi fai vedere la mappa Devo ancora capire Se effettivamente Sì Questa è la strada giusta C'è uno schigno blu O era l'altra Quindi Io quindi direi Che ci possiamo Sì Salutare qua Era questa Che era di là Che così siamo a posto Ragazzi Io direi come al solito Vi invito a lasciare Anche il commento Se mi piace La serie E fammi sapere Cosa ne pensate Adesso Vi saluto Ciao ciao